Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. L'azienda sanitaria non assume ossa infermieri, i sindacati contraattaccano e avviano la fase 2. Blocco degli straordinari, rientri silvaggi e richiesta continua di ordini di servizio. Oggi sit-in di protesta davanti all'ospedale Santonato. Sentiamo. Di fronte all'inerzia dell'azienda che ha dichiarato le ferie, per noi non sono ferie, per quanto riguarda il sindacato sarà un agosto di lotta, un settembre di lotta. Noi da oggi passiamo alla fase 2, di fronte a un'inerzia dell'azienda che non dà assolutamente risposte, come abbiamo già detto in prefettura, come abbiamo ribadito più volte, non ci sono abbastanza risorse per quanto riguarda il personale infermieristico e addirittura zero per quello che riguarda il personale OSS. Quindi di fronte a questa non risposta da parte dell'azienda, noi passiamo da oggi alla fase 2. Quindi cominciamo a bloccare gli straordinari, cominciamo a bloccare i rientri silvaggi, chiederemo gli ordini di servizio ogni qual volta ci viene chiesto di rientrare in servizio. Sostanzialmente la carenza cronica di personale in tutte le varie realtà dell'azienda ASL Toscana Sud-Est, sia dal punto di vista infermieristico, sia dal punto di vista degli operatori sociosanitari. Il problema è proprio la carenza cronica di personale, sia nei reparti che nei servizi ambulatoriali e territoriali. Non c'è stata sostanzialmente nessun tipo di risposta, soltanto un modo per concretizzare il fatto che non c'è la possibilità di generare nuove assunzioni, che non c'è la possibilità di prendere nuovo personale, che al momento siamo abbastanza secondo i numeri che l'azienda ci ha fornito. Sicuramente noi non abbiamo intenzione di fermarci alle parole, quantomeno se non abbiamo delle risposte concrete nell'immediato futuro. Rimanando in ambito sanitario, in questi giorni si parla di virus, di vaiolo, delle scimmie, di febbre, dengue. Siamo andati nel reparto di malattie infettive di Arezzo per capire che tipo di autunno e inverno ci dobbiamo aspettare. Grazie a Settimelli. Con la ripartenza del lavoro e delle scuole abbiamo cercato di capire all'interno del reparto di malattie infettive e con le varie emergenze che ci sono state comunque anche durante l'estate, una di queste ancora da capire meglio come il vaiolo delle scimmie. Cerchiamo di comprendere come ci si può proteggere e soprattutto che tipo di autunno e inverno ci si può aspettare. Allora, sicuramente la ripresa della socialità, soprattutto in ambienti chiusi, quali possono essere le scuole, gli ambienti lavorativi e le attività più promiscue, soprattutto i bambini e i ragazzi che comunque hanno alti contatti, possono favorire maggiormente quelle che sono le patologie che si trasmettono per via aerea, quindi principalmente in questo caso il Covid e anche le patologie da contatto. Ovviamente casi Covid, sì, abbiamo tanti casi, ovviamente immaginiamo che anche in autunno questi aumenteranno, bisogna tenere alta l'attenzione alle norme di prevenzione, quindi qualora un paziente abbia sintomi quali raffreddore, mal di gola, febbre, diarrea, dovrebbe evitare il contatto con gli altri, fare il test Covid possibilmente e attenersi a quelle che sono le regole, diciamo, di isolamento, ovvero rimanere a casa finché si sintomatici, utilizzare dispositivi di protezione individuale, proprio per evitare il contagio ed evitare il grande numero. Soprattutto una forte attenzione va, diciamo, rivolta verso quelli che sono i soggetti fragili, quindi gli anziani, le persone comunque con patologie importanti, su cui rinnoviamo l'importanza della vaccinazione. Per quanto riguarda il discorso del vaiolo delle scimmie, diciamo, siamo in una situazione in qualche modo un po' di allerta, perché l'OMS ha dichiarato la situazione del vaiolo delle scimmie come potenzialmente a rischio per tutto il mondo, perché sappiamo che in quest'anno, già nel 2022, avevamo avuto un focolaio di vaiolo delle scimmie che, diciamo, era sostenuto da una tipologia di vaiolo con una mortalità inferiore all'1%. In quest'anno, in Africa, si è sviluppato un clade, diciamo, diverso, con una mortalità più elevata e una sintomatologia più sfumata all'inizio, che quindi, diciamo, ha favorito la possibilità del diffondersi della malattia. Ci sono stati numerosissimi casi, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo e nelle regioni limitrofe, però, ecco, dobbiamo al momento aspettare, osservare e tenere alta la guardia, soprattutto dell'osservazione, quindi, chiaramente, noi medici, ma anche la popolazione, essere in qualche modo allertata sui possibili sintomi e poi sappiamo che ci sono dei vaccini che erano stati, diciamo, introdotti, appunto, dopo l'epidemia del 2022 e che sappiamo essere comunque efficaci anche su questa tipologia. Di nuovo chiusa il traffico via Fiorentina. Questa mattina all'alba è stata transennata l'arteria urbana di Arezzo, una delle più importanti, e lo rimarrà per altri dieci giorni fino alla fine del mese. Il tratto è sempre lo stesso, quello compreso fra il semaforo della tangenziale e il quartiere dell'Orciolaia. La chiusura è stata resa necessaria a causa dei lavori per la realizzazione della rotatoria. Dai commercianti arriva l'appello a fare presso e a effettuare i lavori di notte. Anche i residenti sono sul piede di guerra perché le strade limitof al cantiere resteranno chiuse fino alla fine di settembre e non vi sarà nemmeno la possibilità di poter parcheggiare le auto. Quaderni, tazze, borselli, notebook, penne, matite e gomme. Tutti i gadget con l'immagine di Giorgio Vasari realizzati per omaggiare il grande artista Aretino nell'anno in cui si celebrano i 450 anni della morte dell'artista e nati dalle opere di Laura Daviti. Grazie a settimelli. Mi sono innamorata di Giorgio Vasari sicuramente studiando storia dell'arte e poi in effetti ho fatto anche proprio la tesi di laurea sulle committenze di Giorgio Vasari a Monte San Savino che è il paese dove vivo. Laura Daviti, artista Aretina appassionata di Giorgio Vasari, ha omaggiato l'artista con opere d'arte a lui dedicate proprio in occasione del 450esimo anniversario dalla morte. La mia passione appunto è il disegno e la pittura. In modo particolare io faccio appunto questi acquerelli chinati e anche i disegni fatti con la matita sanguigna e il gessetto bianco che poi è un po' la tecnica che si rivede nei grandi maestri del passato. Sta delicatissima la sanguigna, anzi più è delicato e più è bello il disegno. Qualche linea e poi si dà la luce con il gessetto bianco. Opere d'arte che adesso diventeranno dei gadget. Questi sono i primi gadget, tra poco ne arriveranno degli altri, però già anche questi gadget sono stati molto acquistati. È stata realizzata anche questa tazza che contiene tutti e tre i disegni, quindi partiamo dal disegno con il proprio macchinario orologio, Giorgio Vasari e il quadrante dell'orologio. Vasari è sicuramente un punto di riferimento e quest'anno appunto si celebra l'anniversario, i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari e quindi ho pensato che fosse molto bello comunque celebrarlo anche appunto con dei disegni ma soprattutto con dei gadget. Vere e proprie opere d'arte che hanno suscitato già grande interesse finendo per essere poi riprodotte su agende, shopper, quaderni, tazze, matite, gomme e penne. Vediamo Giorgio Vasari, l'acquidotto, il palazzo della Fraternità dell'Aishi con il campanile. Questa che è una lettera di Giorgio Vasari che dovrebbe appunto ricordare proprio il testamento di Giorgio Vasari in cui appunto nomina la Fraternità dei Laici come erede universale. In sostanza gadget dedicati proprio a Giorgio Vasari all'interno della Fraternità dei Laici. Il gadget per me è importante perché penso che appunto serva proprio per veicolare l'arte. I turisti lo sanno e quindi apprezzano anche di portare un ricordo di Giorgio Vasari con sé. Il principe Alberto II di Monaco visiterà la Cittadella della Pace di Rondine, il santuario della Verna in occasione della sua prossima visita in Italia, il 14 e 15 di settembre. Queste sono le date della visita privata che avrà inizio nei luoghi amati dalla principessa Grace, a Chiusi della Verna, dove le cronache raccontano la permanenza di tre giorni della principessa nel 1968 assieme alla figlia Caroline, allora undicenne, al termine di campeggio estivo nel Casentino. Il giorno 14 di settembre ci sarà l'incontro con la comunità francescana alla vigilia della Festa delle Stimate di San Francesco che chiuderanno l'anno del centenario, mentre domenica 15 settembre giungerà il principe a Rondine per l'incontro con i giovani della World House, promotori della campagna Leaders of Peace che ha visto il principato di Monaco fra i suoi sostenitori. Al via la 72esima edizione del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, ecco come muoversi fra i vari concerti, le dirette streaming e gli eventi ad esso collegati. Grazie a Settimendi. La provenienza dei cori abbiamo nove paesi, sono undici cori, alcuni paesi sono rappresentati due volte come Hong Kong e Cina che porta due formazioni, anche la Francia porta due formazioni e poi abbiamo Spagna, Indonesia, Filippine, non me li ricordo neanche tutti, Polonia, abbiamo gruppi vocali, abbiamo cori, abbiamo cori femminili, maschili, misti, quindi c'è veramente di tutto quest'anno. Un'edizione quanto mai ricca, quella numero 72 del polifonico in corso ad Arezzo fino al 25 di agosto. Un'edizione che sarà possibile seguire anche dai canali YouTube della Fondazione Guido d'Arezzo e tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito. Sia il concorso vero e proprio con tutte le sue sezioni, obbligatoria, musica sacra, musica profana, la rassegna di canto popolare su in fortezza, ma anche appunto la masterclass, quindi l'aspetto didattico per gli studenti della scuola di direzione, una tavola rotonda dedicata al canto gregoriano, fiammella che io voglio tenere accesa del concorso polifonico Guido d'Arezzo perché solo lui e pochi altri mantengono in vita questa grande tradizione culturale e vocale che è tipica nostra. Tra gli eventi speciali, quello di venerdì 23 agosto alla Fortezza alle 21, nell'ambito del 39esimo Festival Internazionale di Canto Popolare. Si esibirà il coro I Cardellini del Fontanino, gruppo folk attivo dal 1952, unico interprete del bei toscano in gergo detto tirulese. Ad ospitare la cerimonia di premiazione sabato 24 agosto sarà ancora una volta l'Auditorium Caorum Hall. Per raggiungere la struttura ci sarà anche un servizio di navetta dalla stazione di Arezzo e sempre qui si svolgerà anche il Gran Premio Città di Arezzo. E' stato utilizzato per la prima volta e verrà riutilizzato il Caorum Hall, l'Auditorium, in quanto luogo più neutro dove svolgere una gara rispetto magari a una chiesa, tra l'altro rimettendo in funzione l'impianto di amplificazione. E l'utilizzo di questo spazio, che però come sapete è fuori città, ci aveva lasciato qualche critica su come si poteva raggiungere. Ci abbiamo lavorato, sembrano sciocchezze, ma questo appunto leva qualsiasi scusa per chi dice che l'Auditorium non ci si può andare perché non c'è collegamento. Quindi anzi abbiamo già ora avuto molti complimenti telefonati da giuria, da partecipanti. Quindi è una piccola grande miglioria a disposizione di un grande concorso. E a settembre Pieve e Santo Stefano si appresta a vivere la quarantesima edizione del premio Pieve. Chiara Sadotti. Guerra, violenza sulle donne e lavoro. Questi alcuni dei temi toccati negli otto diari finalisti della quarantesima edizione del premio Pieve. Il fondatore, Saverio Tutino, definiva l'archivio dei diari un vivaio, evidenziando la cifra vitale di un luogo che dal 1984 custodisce un patrimonio di ricordi, testimonianze e di informazioni dal valore significativo per tutto il paese, particolarmente in questo momento storico. Il premio Pieve dal 12 al 15 settembre andrà a scena in diversi spazi di Pieve e Santo Stefano con il titolo 40 anni dopo, per sottolineare il risultato raggiunto e lanciare un programma per il futuro, articolato dai nuovi progetti tematici e editoriali messi in campo dall'archivio fino agli otto diari in finale del premio. La commissione di lettura, come sempre, ha selezionato storie che offrono uno spaccato della società italiana del passato ma sempre attuale. Si va così dall'emancipazione delle donne, come racconta la memoria di Albertina Castellazzi infendendo l'aria, alle testimonianze di guerra, una raccolta nel diario di Guerrino Nati, sotto ufficiale della marina che ha combattuto la seconda guerra mondiale e poi c'è anche quella del capitano dell'esercito Giuseppe Trinchillo che racconta la Roma nel 44 nel suo Come il sole volle. Mario Morandi lascia invece il diario dall'Albania alla libreria, Cosma Damiano Di Salvo racconta usi e costumi della Sicilia nell'epoca scorsa. L'indifferenza attorno al dolore è il tema a cui ruota attorno terra bruciata di Maria Rossi. C'è poi l'autobiografia di Giovanni Stefanolo, ricordi di un nomade. Cittadina del mondo infine anche Rachele Venturin, nata in Kenya nel 1974 e vissuta in diversi paesi dell'Africa e in Iran, ma anche in Germania, Pakistan e Italia. Serata evento e cine forum sotto le stelle al parco di Lignano lunedì prossimo 26 agosto e cena presso il ristorante Il Toscano a partire dalle ore 19 e 30. Al termine della proiezione del film documentario dal titolo Un altro mondo ci sarà il dibattito con il pubblico, interverrà l'autore del film e regista della pellicola Thomas Torelli. Oltre a lui anche il dottor Massimo Citro della Riva, noto medico, scrittore, dottore in lettere classiche, indirizzo storico e specialista in psicoterapia. I suoi best seller, Elesia, Apocalisse e riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di Codivid 19, V19 e diversamente sani, editi da Bio Blue sono in cima alle classifiche di vendite di libri. Il film sarà dibattuto anche dal giornalista e scrittore, fondatore del giornale online, l'indipendente Matteo Gracis. Riguardo la pellicola, il film è un viaggio documentaristico dove si afferma che ogni cosa è collegata, ogni essere, tutto tende all'uno. Il percorso per arrivare a questa consapevolezza si snoda tra la storia, la scienza, la fisica quantistica e la spiritualità. Tante le testimonianze, incontri come con Masaru Emoto, Emilio del Giudice, Igor Sibaldi, Antonio Giacchetti, Massimo Citro, Giorgio Cerqueti e tanti altri. Un inno alla positività e al cambiamento, l'esplicitazione di concetti complessi che arrivano alla comprensione di tutti. Il costo della serata complessiva di cena è di 30 euro, prenotando presso il ristorante Il Toscano. Passiamo allo sport, perché è tutto pronto per la prima giornata di campionato di Serie C, Girone B, domenica 25 agosto. Infatti scenderanno in campo alle ore 20.45 le squadre di Arezzo e Campobasso, ovviamente nella nostra città comunale, al città di Arezzo. La prevendita dei biglietti è cominciata oggi, i biglietti del settore ospite sarà attiva online, invece sul sito sport.ticketone.it dalle ore 14 fino alle ore 19 del 24 agosto 2024. Il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Passiamo invece al basket, perché siamo prossimi alla prima di campionato. La SBA si prepara quindi in vista di scendere sul parquet del Menz Sana nella nuova stagione 2024-2025. Il presidente Mauro Castelli, che abbiamo raggiunto ai nostri microfono, punta tutto sui giovani. Sentiamo. Sì, la prima partita la dice subito, bella, perché andiamo in un palazzetto storico dove deve essere dato addito al rispetto della società che per tanti anni ci ha visto anche a noi, tifosi della Menz Sana. Quindi tutto rispetto, ovviamente hanno un gran tifo, però questo non significa che andiamo là con la paura. Noi, come sempre io, quando dico le cose, andiamo per vincere sempre. Ovviamente anche la Menz Sana ha fatto una bella squadra e quindi secondo me sono una di quelle partite che sono da giocarsene fino alla fine. Allora, guarda, le linee guida per la formazione delle squadre, per adesso non avendo dei grandi budget a disposizione, ovviamente dobbiamo sempre basarsi sulle scelte giovanili. Cioè siamo andati a cercare quei giovani 2004-2003-2005 che hanno tanta voglia e tanto talento di mettersi, cioè la voglia di mettersi in mostra, e che comunque hanno del talento che hanno dimostrato sia in B, magari non da protagonisti, o in Serie C da protagonisti, perché sono quelli che economicamente sono più accessibili. Ma però ti dirò che quest'anno, a differenza degli anni passati, c'è stato molti procuratori che sono stati loro a presentarci i loro giocatori, proprio per chiarezza è una città comunque dove si sta bene, è una società seria dove mantengono le promesse. E quindi questo poi coadiuvato insieme a due, passatemi il termine, volponi della Pallaganestro, come Toia e come Lemmi, ovviamente penso che ci sia una giusta, un'amalgama buona per poter creare qualcosa di buono. Io sono sempre pessimista, però ho visto veramente la città nell'ultimo anno e mezzo che si è avvicinata tanto alla nostra società, i tifosi sono aumentati tanti, tanto in qualche sponsor si è avvicinato. Ripeto, come sempre manca la ciliegina sulla torta, è una grande impresa che unendo la parte economica dello sponsor grande a una società grande come la nostra potremmo fare qualcosa di importante anche per la città. E questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, buona serata con i programmi di Arezzo TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.